Allora, c'è la voce? Sì! 15 aprile 2017! Quindi oggi? Avanti Cristo! Come Avanti Cristo? Era un giorno come tanti altri nel piccolo villaggio di Smallville! Smallville, davvero? Sì, esatto! Il sole splendeva alto nel cielo e tutti gli abitanti sembravano essere felici! Interessante! Uno degli abitanti che più sembrava felice era Arcisvaldo, un guerriero molto coraggioso! Che nome gli hai dato, un bel nome! Ma soprattutto molto curioso! Spesso si avventurava in posti mai esplorati da nessun uomo e ogni volta tornava a casa con le cose più strane! Ok! Dall'ultimo viaggio tornò con una strana creatura, simile ad un essere umano ma più brutto e selvaggio! Quindi te? Con la pelle quasi putrefatta e gli occhi rossi! Quindi Steph! Decise di chiudere questa strana creatura in un vecchio granaio che utilizzavano come prigione e andò a dormire! Indovinate un po'? Il giorno dopo la creatura era scomparsa! Solo qualche ora dopo sarebbe stata ritrovata ma ormai era troppo tardi! Qualche giorno... Steph che hai combinato! Scusi, mi allaspetta di interrompermi? Ho quasi finito! Sembra la tua biografia, te lo dico! Non è la mia biografia! Quel giorno l'umunità conobbe gli zombie e da quel momento non ci fu un singolo giorno senza che qualcuno facesse un film o un videogioco su di loro! Quello è vero! Quello è vero! Fine! C'è la fine! Finita così! Sì! Ok, e perché abbiamo dei polli, suppongo? Allora, fai partire l'intro e poi lo spiego! E ragazzi, come va? Io sono Fireniki! E io sono Steph! E questo ci chiama Ultimate Epic Battle Simulator! E ogni volta riesce a dirlo bene, quindi è perfetto! E allora siamo qui, abbiamo appena ascoltato la fantastica, fantastica storiellina di Steph e ci deve spiegare perché qui abbiamo dei polli, giusto? Esattamente! Il gioco lagga un po' da quanti sono, sono 10.000 galline o polli, a differenza di quello che preferite voi. Oggi, appunto, cadrà, diciamo, in disgrazia all'umanità perché arriverà un'invasione di zombie. Siamo nel 2017 a.C., nessuno sa che sono davvero esistiti gli zombie, ma semplicemente degli eroi li hanno ammazzati tutti e quindi sono scomparsi. Adesso ti faccio vedere, prima di tutto, la compagnia che ci difenderà da questa catastrofe. Ok. Dopodiché, appunto, vedrai che cosa succede perché per ora tu hai visto solo 10.000 galline, giusto? Esatto, esatto! Ok, allora qua abbiamo la cavalleria pronta a salvarci. Ah, mi sembra giusto! Dopodiché, l'ultima risorsa sono questi cavalieri qua, strabelli, combinati a questi arcedi. Ok, ok. Quindi, diciamo, se i cavalieri falliranno, loro saranno la nostra ultima speranza. Sì, mi sembra che siamo ben equipaggiati. Altrimenti, tu adesso scompari e rinasci come zombie. Ah beh, sì, perché poi ci ritroviamo nel futuro che non ci siamo più. Esattamente. Perché mi sembra giusto se questa battaglia finisce male così. Esattamente. Ok, però non capisco ancora i polli. Allora, io vorrei cambiare l'orario del giorno, ma credo di non poterlo fare, peccato. Quindi adesso ti faccio vedere. Mettiamo a rallentatore il gioco. Velocità, mi piacerebbe. Beh, 0.1 secondo me andrà bene. Ci mettiamo in cinematic. Guarda cosa succede. Ok. Piano piano. Sì, sì, con calma. Forse l'ho messo troppo a rallentatore. Adesso vediamo un attimo. È un po' troppo, scusami. Allora, non so se tu hai notato che lì in mezzo c'è uno zombie. Ok. Guarda adesso cosa succede. Cioè, sta trasformando le altre galline. Guardate cosa succede. È peggio del tappeto di pinguini questo. Diventano tutti zombie. I zombie intaccano le truppe che hanno a fianco, quindi. Quando li ammazzano diventano altri zombie. Cioè, tu mi stai trasformando in un esercito di galline in un esercito... Sì. È epica questa cosa. Davvero, il gioco ha fatto bene a mettersi epic nel titolo. Perché, davvero. Lo so. Io non me lo immaginavo. Continuavo a non capire l'esercito di galline. Mentre tu continuavi a parlare di zombie. È questa cosa la più bella che abbiamo mai visto. E adesso, guarda in lontananza, sta arrivando la cavalleria che sta per caricare gli zombie. Sinceramente, io non so se questi zombie adesso attaccheranno pure. Perché di solito sono un attimino un po' diciamo confusi. Non mi sembrano molto svegli. Cioè, sono girati tipo dall'altra parte. Non mi sembrano molto. Però guarda che spettacolo. Guarda come continuano a diventare tutti i zombie. Sembra, capito, la ola dei concerti. Eccoli. E lo si trasformano tutti i zombie. Stanno portendo al tacco. Oh, che bello! Arrivano! Guarda. Arrivano! Guarda, 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 guarda. I zombie però cercano di reagire. Sì, sì, questa volta, a differenza della scorsa volta, stanno combattendo. Certo, che cerchino di mordere, comunque di fare qualcosa. Sono un po' addormentati, però fanno qualcosa. Sinceramente, i cavalli pensavo che sarebbero andati proprio dritti schiacciando gli zombie. E invece no. Quindi ho paura che questi zombie vinceranno. Infatti vedo tanti cavalli che stanno iniziando a crollare. E gli zombie potrebbero diventare più forti grazie a questi cavalli. Quindi, non lo so, non lo so. Io sono abbastanza preoccupato su quello che succede. È pericoloso per l'umanità. Per le sorti di questa battaglia. Sì, perché ho paura che arriverà un esercito davvero gigantesco. Vabbè, poi dai, tutti abbiamo visto Walking Dead e sapremmo arrangiarci, quindi. Non lo so, eh. Mamma mia quanto fanno paura, guardali. Arriviamo a 3000 likes, altrimenti vengo a morsicarvi. Siamo nei guai. Tutta la cavalleria è stata eliminata. E adesso un'invasione zombie sta andando verso i nostri uomini. Non gliene frega niente neanche dell'acqua. Esatto. La leggenda che dice che gli zombie hanno problemi a camminare in acqua e a passare sull'acqua è stata proprio decisamente distrutta in questo esatto istante. La nostra umanità, come l'abbiamo sempre conosciuta, è davvero in pericolo. E quando prima o poi questi zombie arriveranno, credo tra 40 minuti, quando noi ci saremo già addormentati, saranno guai. Vabbè, le battaglie si svolgono in tante ore, non è che si svolgono in 5 minuti. Possono un attimino correre un po' più veloci, magari qua. No, i zombie non corrono, sono tutti addormentati. Allora, aspetta, ci penso io. Zombie, ascoltatemi. I consolini qua stanno aspettando la battaglia. Potete correre un po' di più? Sì, Stef. Adesso andiamo. Grazie, zombie. È iniziata l'avanzata. Attenzione. Allora, i nostri uomini sono pronti a bloccarli. Ragazzi, a destra. Ma quella parte. Giratevi, per favore, prima che arrivino. Abbiamo capito che state facendo l'esibizione. Ok, ok, no, 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 stanno come fare. Si sono ricordati. Gli arcedi mi sembrano un po' smiratini qua, eh, perché viene un po' scomodo sparare lì. Perché c'è la montagna che un po' fa da scudo, quindi risulta leggermente scomodo. Ma infatti stanno sfruttando la loro intelligenza per sconfiggere i zombie che non capiscono nulla. Dai, l'umanità non può morire contro delitto. Guarda come arrivano a trenino. Ma poi sono infiniti, guarda lì dietro. Sono guai per tutti. Comunque queste sì, che sono belle battaglie, accidenti. Sì, mi sto emozionando, mi sembra reale. Bellissimo, bellissimo. Sì, e non so quante ore dura. Non ci interessa. Noi la vedremo e speriamo che l'umanità resta. Ma sei sicura? Sì, sì, ce la guardiamo. Allora, tu hai fatto la storia, tu hai creato la battaglia. Sì, Ferre. Adesso noi rimaniamo qui finché non finisce. Ferre, ma se dura sei ore? Pazienza, rimani qui sei ore. Perché io adesso voglio vedere se vincono gli zombie o se vincono gli umani. Giustamente mi ha incuriosito, mi hai fatto tutta una bellissima premessa, quindi adesso lo voglio vedere. Ma potrebbe durare tre ore? Va bene, tutte le battaglie durano ore e ore. Cosa vuoi fare? Il pappamolle? Sì, ma Ferre. Arrivano a trenino, non capiscono neanche che possono andare un pochettino più in massa, vanno a fila indiana. Aspetta, quelli ce la fanno, si stanno buttando di sotto. Ma sono un po' bloccati. Vedi che aspettano? Guarda, sono più ordinati degli esseri umani comunque. Alle poste c'è molto più casino. Tu non li vedi ma hanno il bigliettino e lo rispettano, capite? A parte questi nella fila tutta più esterna che sono un po' imbroglioni. Ci sono sempre quelli che un po' cercano di imbrogliare, anche tra gli zombie. Questa scena è qualcosa di davvero bellissimo. Lo so, lo so. Stanno cercando di aggirare. Oh mio Dio. Guarda, 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 guarda. Un gruppetto. Aspetta, impossessiamoci di lui e vediamo che cosa succede. Allora, rimettiamo la cinematic, ok? Allora, abbiamo anche un po' di numeri, dato che adesso non siamo più in cinematic. dice che ci sono ancora 858 galline, che secondo me non è vero, secondo me sono morte tutte. Non le vedo, sono galline zombie, nel caso. Se ci sono, sono galline zombie. Poi, gli zombie rimanenti sono 19.372. Eh? Ne avevo messo, teoricamente ne avevo messo 10.000. Avevi messo 20.000 galline. Ah, erano 20.000, ok. Io all'inizio ti ho anche detto, ma sono 20.000, tu non lo so, 10.000, però c'è stato 20.000, in effetti, 20.000. E infatti hanno ucciso 20.000 e 500, 500 erano i cavalli. Guarda gli arcieri come stanno sul pezzo. Hai visto che qualcuno ha provato a colpirmi con una freccia? Sì, però aveva senso, ho provato davvero a fare tutto il giro per raggiungere gli arcieri. Sono intelligenti. E non si stanno accorgendo di nuovo, eh? Io mi rimangio tutto quello che ho detto. Guarda che adesso facciamo un'infiltrazione zombie nella parte arcieri. Noi dovremmo tifare per gli umani, ma a questo punto, sinceramente, gli zombie stanno andando meglio. Ma non mi mostrano questa intraprendenza, mi sembra giusto appoggiarli. E poi può durare meno la battaglia se le zombie crea un'infiltrazione qua. Un po' di scompiglio, quindi. No, sei ne accorto? Ok, ho schivato la freccia. A zigo zago. A zigo zago. Aia. Non funziona. Ti prego, ti prego, ti prego, risparmiami. Mi date, sei accorto solo tu che ci sono. Ok, questa l'ho schivata. Adesso questa mi prende in pieno. A zannalo. A zannalo, Steph. Ce l'ho fatta? Sì, sì, sì. Oddio, scatta tutto, ma si stanno trasformando. Si stanno trasformando. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Sei riuscita a fare l'infiltrazione tra gli zombie. Ho anche bloccato la telecamera per sempre. Ma nel vasso ha totalmente la pena. Cioè, guarda, non posso più muovermi. Guardate gli zombie come stanno. Farei vincere gli zombie con questa mossa, te lo dico. Farei vincere gli zombie. Si moltiplicano. Avvazzano gli urciani e si moltiplicano. È un qualcosa di meraviglioso che sono riuscito anche a liberarmi. Guardate come si stanno moltiplicando e piano piano stanno facendo fuori gli arcedi. La parte, diciamo, aerea del nostro assalto ormai sta morendo. E qua i cavalieri non si sono accorti di nulla e sono totalmente fermi. Qui credo che non ci sia nessun tipo di problema. Infatti c'è soltanto un tappetto di zombie. Esatto, esatto. Che piano piano aumenta e loro continuano a venire a fila indiana. Quindi non c'è nulla di interessante da vedere qua. Il mio PC sta iniziando a laggare tantissimo. Ma abbiamo esagerato stavolta. Abbiamo esagerato. Capete, stiamo leggermente esagerato. Non avevamo capito bene una cosa. È il team delle galline. Quindi non sono 367 galline vive. Sono 367 di questi uomini vivi. Quindi piano piano stanno morendo. Quindi la vittoria io credo che andrà matematicamente agli zombie. Perché stanno continuando. 18.000 contro 366 è matematico. E stanno continuando a scendere i 366. Quindi evidentemente piano piano stanno cedendo sempre di più. E stanno sopravvivendo un po' di tempo soltanto. Perché comunque qua riescono a fare, diciamo, un posto abbastanza stretto dove combattere. Gli zombie non capiscono come fare. Però guarda, piano piano a furia di sorpassare dalla fila. Si è creato un esercito ancora più imponente. Sì, sì, sì. No, alla fine ce l'hanno fatta. Cioè, piano piano zitti zitti. Se capissero che da qui dovrebbero andare qui, sarebbe ancora meglio. Guarda, uno ce l'ha fatta. Ciao bello. Ogni tanto becchi quello che capisce che ce la fa. Esatto. Allora, zombie, seguitemi. Venite con me. Vi invio verso la vittoria. E ammazzeremo tutti gli uomini brutti che ci picchiano. Nessuno mi segue. No, no, non gliene frega nulla, sinceramente. Vogliono solo mangiare cervelli, non gliene frega neanche della battaglia, sinceramente. Eh, ma se vogliono i cervelli, dobbiamo seguire l'unico cervello un po' più intelligente. Eh, no, no. Non capiscono che tu sei intelligente. Pensano solo che sei uno che sta andando in giro a caso, sicuramente. Beh, sono abituati a vederne tanti così. Esatto. Non solo che nemmeno che sono morti altri cinque del nostro esercito e neanche mille degli zombie. Quindi chiaramente il nostro esercitino perderà. Non credo ci sia bisogno di fine di vederlo. Andiamo a fare la battaglia che Ferinichi tanto voleva nell'episodio 1 e che le avevamo promesso perché il sondaggio è stato positivo, purtroppo, e l'hanno voluto. Io non so perché certe persone votano per avere tartarughe contro galline. Ok. Nei commenti del primo video ho notato che alcuni consolini hanno provato a proporci dei si può fare in questo gioco. Secondo me potrebbe essere una tipologia di video davvero interessante. Quindi nei commenti continuate a proporci un po' di cose da provare. Ad esempio una che ho letto che era molto interessante è se impersonifichi una persona e inizia a scappare i, diciamo, i nemici ti inseguono per sempre per tutta la mappa o ti lasciano perdere e li puoi ammazzare piano piano. E in effetti non lo sappiamo. In effetti non lo sappiamo. Quindi sarebbe interessante. Proponetecene in questo stile nei commenti e magari facciamo un episodio totalmente dedicato al si può fare anche in questo gioco. Ecco, comunque è arrivato il mio momento. Animali contro animali, tutti contro tutti. Voglio un attimino narrare. Team 1, team 2, team 3, galline, pinguini, tartarughe. 10.000 di ognuno, tutti contro tutti. L'animale che resta in vita vince. È il più forte. Siete pronti? Non ha senso di esistere questa battaglia. Siete pronti, ho detto. Povero, ma le tartarughe sono lente. Abbiamo le tartarughine da questo lato. Poi abbiamo le galline da questo lato. Che tristezza questa battaglia. E i pinguini da questo lato. Ok. Al centro il deserto. E tanti cadaveri e ci saranno tra molto poco. 3, 2, 1, via. Che partite? Io sto guardando le tartarughe. No, i pinguini sono velocissimi, anche le galline. Guardale, guardale. Si lagga. Le tartarughe sono proprio lente. Si va di lag. Allora, i pinguini e i tartarughe stanno andando in uno contro uno. Le galline si stanno un po' dividendo a metà. Quindi diciamo che i pinguini... No, guerra, si stanno dividendo tutti, eh. Mi sembra una battaglia equa. Allora, andiamo a vedere un pochettino tartarughe e pinguini come si svolge. Che tristezza sta battaglia. Guardali. Guardali col becco che cattiveria. Guarda come sono cattivi. Sono cattivissimi. Allora, per ora ti dico, tra pinguini e tartarughe mi sembra che i pinguini abbiano la meglio. Vediamo invece galline e pinguini. Mi sembra di più sul pezzo. Assun di beccate. Becco contro becco. E qua invece... Eh, se la contendono qua. Ma cos'è quella? Paglia? Cosa sta succedendo? No, sono le piume. Ragazzi! Le piume delle galline che volano. Oh, mamma mia. Che trash. Facciamo certe cose. Al momento i pinguini sono quelli che hanno ammazzato più persone con 600. Abbiamo le galline che hanno ammazzato solo 160. E le tartarughe 500 stanno recuperando in fretta i pinguini. Uh, sono così fuori. Ah, perché magari sono molto resistenti a tartarughe. In effetti sono molto resistenti. Guarda, guarda, guarda. Sono in un doppio fronte le tartarughe. Vedi, destra e sinistra. Scrivete nei commenti chi secondo voi vince tra tartarughe, pinguine, pinguini e galline. Direi che le galline le potete già eliminare perché al momento stanno davvero morendo e basta. Non si sa mai che recuperino. No, non credo, non credo. Non si sa mai, non si sa mai. Quindi, pinguini contro tartarughe. Chi vincerà fateci sopra nei commenti. Noi rimaniamo qua in alto e rimaniamo ad osservare questa bellissima battaglia. Non so sinceramente quanto durerà, ma questa la voglio vedere per intero. Allora, siamo rimasti circa 15 minuti fermi ad aspettare un po'. Praticamente, facendo un pochettino un riassunto, le galline sono morte tutte. Ne sono rimaste 25 in questi tanti. E infatti, guardate, guardate lì che stanno finendo di essere sterminate. Guardate, guardate, queste sono le ultime in vita. 2, 1, ecco l'ultima. Ok, non c'è più. Estinte. A questo punto, indovinate un pochettino. Allora, abbiamo 3100 pinguini per 9600 tartarughe. Infatti, questi sono i pinguini contro tutte queste tartarughe da questo lato. È anche lì che sono nettamente di meno i pinguini. Guardate, guardate. Oh, io non l'avrei mai detto. Neanche io. Tu l'avresti detto. Probabilmente le tartarughe sono molto, molto, molto più resistenti. Eh, a voglia. E quindi, anche se magari a livello di attacco fanno meno male, muoiono con più tempo. E quindi, piano piano, tra, e ammazzano tutto. Per ragazzi, se non è così, se giocciano, sentiteci un like. Questa è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerarvi da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao!